Non c'era una foto, una che fosse fedele ai colori dei miei abiti. Innanzitutto il mio lavoro è stato impeccabile. E poi il mio stress dove lo mettiamo? Che valore gli diamo? Io non riesco ancora a capire come lei abbia potuto credere così ciecamente a Donati. Oggi siamo qui per cercare di trovare un app conto. Solo che mi piacerebbe chiudere la faccenda più presto per tornare a dedicarmi a quello che più mi interessa, il mio lavoro. Il fatto che la mia cliente ed io abbiamo deciso di non affrontare questioni legali in questa sede non significa ovviamente che in un'eventuale causa non avremmo carte da giocarci. Se lei fosse oggi nei panni della signora Ferri, che soluzione si prospetterebbe per questa controversia? Tutti ci dicono che la Ferri è brava. In effetti avremmo una serie di lavori in prospettiva. Questo vorremmo non fosse riferito alla Ferri. Proviamo un attimo a mettere da parte gli aspetti puramente economici. In primo luogo vorrei esprimerle il mio dispiacere per la situazione in cui si è trovato. Mi sembra un buon passo in avanti. Per rimostrare alla signora Ferri che io non disprezzo il suo lavoro, ma anzi ho ancora fiducia in lei, nonostante la brutta esperienza. Signore, vi ringrazio, complimenti per l'impegno che ci avete messo e spero di vedervi ancora in altra sede. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.